segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te abbiamo anche i direttori i nuovi direttori della rai anzi vediamo questi sono i direttori delle testate se me li mandate abbiamo già marco chiocci è il nuovo direttore del tg1 antonio preziosi del tg2 mario orfeo del tg3 poi andiamo avanti abbiamo francesco pionati al gr radio paolo petrecca rai news 24 giuseppe carboni rai parlamento alessandro carcini tgr jacopo volpi rai sport ecco allora le chiedo un commento su queste su queste nomine anzitutto sono tutti uomini quindi la notizia con la prima presidente del consiglio donna la rai diventa ancora più maschile e ho trovato ancora più grave che oggi la comunicazione fosse no ma recupereremo la parità di genere evidentemente perché le donne possono andare bene soltanto nei ruoli di vice quando sottolineavo in questi mesi la differenza fondamentale tra una leadership femminile e una leadership femminista contestando a giorgia meloni di scegliere di essere solo la prima è proprio qui che si vede le donne arretrano sotto il governo di giorgia meloni anche dentro la rai e questo è molto grave ma accanto a questo io voglio dire una cosa sappiamo che quello che sta accadendo ecco questa occupazione certamente non è la prima volta che accade però forse accade in modo e con metodo ancora più grave cioè non tutti i mali nascono con questo governo ma questo governo ha scelto di farsene interprete ancora più determinato ma tutti i mali devono finire con questo governo quindi voglio dire che il nuovo partito democratico che sto guidando oggi ha un compito importante quello di aprire una larga riflessione su come riformiamo il servizio pubblico affinché sia davvero libero e davvero indipendente fate una proposta di legge di riforma è quello che vogliamo fare magari a un referendum popolare sentite cosa pensano i cittadini di come fu come adesso la rai io posso solo dire una cosa gliela dico da da professionista dell'informazione da tanti anni io trovo umiliante anche per quelle persone che si trovano lì a ricoprire a ricoprire ruoli direzione e che molte volte sono anche dei bravi professionisti trovo umiliante che ormai senza nessun pudore venga indicato accanto a ogni direttore il partito di riferimento cioè quasi come se fossero dei parlamentari della repubblica allora tizio fd caio forza italia cioè a questo punto scriviamocelo no scriviamocelo direttamente quando compare in video mette lì sotto il partito ma non si sentono umiliati loro per primi a stare dentro questo gioco però voi che questo gioco lo avete avvalato voi non dico lei che è appena arrivata ma il partito democratico che c'è stato dentro questo gioco e che lo ha contrattato faccio la legge di riforma seria e la sottoponga a un referendum dei cittadini potrebbe essere un'idea guardi proprio questa l'intenzione ma non la vogliamo fare da soli vogliamo promuovere un confronto con i professionisti e le persone esperte le persone che lavorano dentro la rai perché sono gli stessi lavoratori e lavoratrici della rai che chiedono da tempo che il servizio pubblico possa diventare davvero libero garantire il pluralismo dell'informazione che è l'essenza di una democrazia e anche indipendente dalla politica ci sono modelli in altri paesi dove già funziona così e se ne riesce a guadagnare anche in qualità perché il passaggio di oggi è particolarmente grave perché appunto è dettato da un'esigenza di spartizione tra partiti e non da esigenze di natura aziendale senta